Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto da SVG per il telegiornale di La Sette di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto politiche nazionali al 23 novembre del 2021. Nel dettaglio, i DEM, il Partito Democratico, è al primo posto con il 20,8% delle preferenze, cresce dello 0,5% in una settimana, a seguire Fratelli d'Italia con il 19,08%, meno 0,4%, la Lega al 18,04%, perde lo 0,3%, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,4% ed è al 15,7%, seguono Forza Italia al 6,8%, scende del 0,1%. Quindi azione di calenda dal 4%, guadagna lo 0,1%. Sinistra italiana chiude i partiti al di sopra, no, beh, diciamo che è stabile al 2,5%, è al di sotto del 3%, quindi la soglia di sbarramento, e poi abbiamo Italia Viva che chiude con il 2,4% in crescita dello 0,2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.